Ciao ragazzi, siamo alla Baita Bondella, sopra Prunate, provincia di Como, e siamo alla prima tappa dell'Enduro Cup Lombardia. Stiamo per provare le prove speciali, adesso seguiteci e andremo sulla 2, e le faremo tutte per vedere un po' come sono messi i tracciati. Seguiteci poi su bclive.it e anche sulla pagina Facebook di Enduro Cup Lombardia. A dopo! Ok, ciao ragazzi, Luca Trevisan, Claudio Riotti, siamo qui all'inizio della 3, della PS3 di Tavernerio e della PS2. La PS2 è questa quadritta che faremo proprio adesso, per la 3 c'è ancora un breve tratto di trasferimento in salita, ma ve lo faremo vedere dopo. Ok, quindi buona PS e ci vediamo, cioè, ci vediamo, continuiamo il commentario. iniziata a PS2, primo tratto, bello pedalato, qua la scelta delle linee già può dare anche qualche secondo in più, sono dei piccoli pezzi rocciosi e comunque è un pezzo molto bello. più che c'è, in fondo oggi non è proprio il massimo, però è la caratteristica delle PS qua di pomo. Ok, pezzettino roccioso da fare scorrere e via, mollare i freni per un doppiettino qua farino. ralentiamo un po', dovete venire a vedere che lavori hanno fatto i ragazzi qua del Bike&Co perché veramente ci sono dati un grande affare. Qua la scelta delle linee è molto ampia. pezzo veloce, quindi, siamo ancora alla parte molto scorrevole della PS, qui attenzione che hanno messo una nuova deviazione per ralentare un pochettino, qua un piccolo drop, farvi ancora mollare i freni per mantenere un po' di velocità. attenzione alla curva, ho sbagliato strada, benissimo, e qui altro pezzettino interessante, una bella contropendenza e tutto il pezzo pedalato da fare a manetta. quindi qua verranno fuori le velleità enduristiche dei nostri due giovani che stanno riprendendo riprendendo le PS per voi. ma comunque è un pezzo molto scorrevole, molto bello, tutto in costa, ecco qua sale un pochettino, arrivando al guado che diciamo adesso è asciutto. qui abbiamo un altro bello strappetto e ci riporta di nuovo il piano per arrivare all'altro guado. da qui il nome da PS Guadi che poi hanno, hanno comunque mantenuto i ragazzi. ok beccato e attenzione alla contropendenza perché qua se le condizioni saranno bagnate sarà molto interessante da affrontare quella contropendenza. anche qui bellissimi lavori, molto flow, fa che saltino, qua si può arrivare abbastanza decisi. e qui tratto pedalato con l'altro guadino, preparato il rapporto bello leggero, non come ho fatto io che ho cambiato all'ultimo, altro piccolo guado e via di pedalare. molto più scorrevole quest'anno le PS, cambiate rispetto all'anno scorso. qua un po' di umido riesce a restare sempre. attenzione alla piccola deviazione, anche qua. giusto? e qui si sale e via. anche qua molto flow, qui si può allargare tutto e tagliare. andare su qua e mantenere benissimo la velocità. molto bello questo pezzo, molto molto bello. doppiati naturali, qualche roccia, è veramente tutto da guidare e tutto molto bello. sempre occhi aperti perché queste rocce non perdonano. la linea più dritta è anche quella migliore, ma a volte anche quella più insidiosa. bene, ci saltano un po' di sassi, un po' di fango che ci sta sempre bene. e l'ultimo tratto, ancora da lasciar correre bene la bici, cercare di mantenere le linee dritte. attenzione al fango qua, ma ci fa tutto alle rocce. benissimo, la viazione dovrebbe, credo, finire qua. grazie a tutti.